Sono stati scoperti, in men che non si dica, gli autori del grave atto vandalico consumato sabato sera nella piazzetta 3 ottobre di Noto, dove la testa del putto in pietra, posto al centro dell'antica fontana, è stata fatta cadere nell'acqua della stessa. Stamane, infatti, i genitori di tre minorenni, con uno di essi, si sono presentati dal primo cittadino a confessare il gesto e a renderlo noto alla città è stato lo stesso Corrado Bonfanti, attraverso i social. Ho convocato il comandante della stazione dei carabinieri di Noto, maresciallo maggiore Gerardo Cantarella, e il vice comandante della polizia municipale, Corrado D'Amico, scrive, che da ieri sera conducevano le indagini per le attività di dito necessarie a coinvolgere il magistrato di turno. Tutti i genitori hanno manifestato totale condanna dell'accaduto e disponibilità al risarcimento. Ovviamente, aggiungeremmo noi, si spera anche che possano non solo risarcire i danni, ma anche iniziare a rivedere coi propri figli i principi di un'educazione rispettosa dei luoghi pubblici. Sembrerebbe, infatti, ma le ulteriori indagini chiariranno meglio tempi e atti, che il putto sia stato preso a pietrate sino al distacco della testa, finita dentro la fontana. Sarà necessaria un'approfondita analisi della statua per verificarne le condizioni totali e tutti gli interventi da effettuare per il ripristino globale. A tal proposito, la situazione bianco-pietra di Gianni Masuzzo di Noto si è resa disponibile ad effettuare quanto prima il restauro.